8 risultati utili consecutivi, 6 vittoria e 2 pareggi, Pescara a caccia del terzo successo di fila dopo la Coppa, Colombo ripresenta la formazione tipo un solo cambio rispetto all'11 schierato alla mente di Castellamare e di Stabia, De Sogus per Colai nel tridente completato da Cuppone e Lescano. Di fronte la Gelbison, sorprendente matricola della girone C squadra organizzata, soprattutto solida in trasferta appena due reti subite, De Sanso deve rinunciare a giocatori importanti come Papa, l'ex fornito, soprattutto Faella, attaccante imprescindibile, 3-5-2 a metà campo Ugliano e Savini dal primo minuto davanti il tandem Sorrentino, De Sena fa fatica il Pescara contro la muraglia eretta dalla squadra di Fabio De Sanso. Ci prova qui Mora, proprio all'alba del match, ma la palla termina a lato, nessun problema per D'Agostino che seguiva la traiettoria. Poi Sorrentino, versante opposto, che ignora De Sena, era liberissimo all'altezza del dischetto dell'area di rigore Biancazzurra, 14esimo minuto, anzi 12esimo, ora 14esimo, il calcio d'angolo di Palmiero, il colpo di testa di De Sogus che anticipa tutti ma non trova la porta. Poi ancora Pescara, siamo al 34esimo, andiamo Giabuà, palla per Lescano, anzi per Cuppone, c'è il primo intervento di D'Agostino e poi il secondo in due tempi sulla conclusione di Cancellotti. Siamo ora al 43esimo, insomma non ci sono stati veri tiri in porta da parte del Pescara nel primo tempo, ci prova ancora la formazione di Biancazzurra, non si chiude questa azione, poteva essere sicuramente vantaggiosa per come si erano liberati i giocatori del Pescara. Siamo al 52esimo, ci prova Sorrentino, un tiro velletario, nessun problema per il portiere Pizzari, la partita si vivacizzerà nel finale con i cambi operati dal tecnico Biancazzurro. Qui Cuppone si lamenta per una spinta di un avversario, si continua a giocare Giabuà il suo sinistro, anzi De Sogus, palla deviata da un calciatore campano. Rivediamo ancora il contatto tra Graziani e Cuppone, l'arbitro lascia proseguire, poi magari chiederemo anche conto a Fabio Ferraresi. Poi vediamo Boben che si libera bene tra 4-5 giocatori della Germison, ma ciabatta a lato. 55esimo, fa fatica, ripetiamo, il Pescara contro una squadra organizzata, pugnace, ispida che chiude tutti i varchi, soprattutto raddoppia e triplica le marcature. Qui il tentativo di De Sena, brivido per la formazione Biancazzurra e ci sono i primi cambi, c'è intanto Colai che prende il posto di uno spento De Sogus, non ha avuto grandi chance, l'attaccante 2002 in prestito dal Cagliari, il colpo di testa di Sorrentino sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Capitano Ugliano, viene annullato il gol a Sorrentino, qualche dubbio rimane a dire il vero. Rivediamo ancora, anche se poi a rivedere l'azione, probabilmente era più avanti rispetto ai difensori del Pescara, il numero 9 ospite. Dunque si riparte sullo 0-0, 83esimo, c'è lo spunto di Delle Monache che viene messo a terra da Savini, c'è il contatto col numero 23 della squadra campana della Germison. Con grandi proteste da parte della formazione di De Sanso, insomma allunga il piede Savini, tocca quello di Delle Monache, grande spunto da parte della classe 2005, si incarica della battuta, esecuzione magistrale di Cancellotti con tanto di fascia di Capitano per l'uscita di Mora, e dunque il gol del vantaggio all'84esimo, si sblocca la situazione, il secondo sigillo in campionato per Cancellotti dopo l'Euro-Gol nella partita interna col Monterosi. Tanta responsabilità, se la colla, se la prende senza problemi Cancellotti che sta disputando un campionato super, il classe 1992, Pescara in vantaggio all'84esimo, il raddoppio con Colai, uno spunto, un gran numero a gira, nunziante e poi occhi negli occhi, è gelido, freddissimo, l'italo-albanese, maglia numero 7 che va a festeggiare sotto la curva, 2-0 Pescara, siamo all'88esimo, dunque viene dipanata una matassa davvero molto ma molto intricata, rivediamo la grande giocata di Colai che è gira, nunziante, maglia numero 28 e poi freddissimo, raso terra, nulla da fare per l'estremo difensore della Gelbison d'Agostino, 95esimo, entrano Sané e Chieremateng, è proprio Chieremateng ex Teramo che raccoglie l'invito di Uliano tutto solo, infila il portiere Sorrentino, non c'è più tempo, il Pescara batte la Gelbison 2-1 con tanta sofferenza, ma questa è una vittoria di inestimabile valore, 9 risultati utili consecutivi, 7 successi e 2 pareggi, in totale sono 9 affermazioni in 12 partite, a meno 3 dal Catanzaro, Pescara ha scavalcato il Crotone, sconfitto proprio dalla formazione di Vivarini.